Benvenuti a tutti ragazzi. Il messaggio conclusivo dell'ultima puntata di Good Born in Vietnam non è stato preso da tutti molto bene. In realtà non è stato preso per niente bene. Io ho bisogno di un momento di riposo, un momento di tranquillità. Vado via da Reggio, perché prima di tutto bisogna star bene con se stessi, prima di star bene con gli altri. Non voglio dilungarmi molto, sinceramente. Questa volta ho davvero bisogno di un momento per me stesso. Premetto, potete sempre contattarmi, non su Facebook perché mi cancellerò, potete contattarmi tramite mail. Il mio canale YouTube rimarrà aperto, anche perché ci sono un po' di video. Preferirò seguire per il momento il mio secondo canale YouTube, che ho dedicato interamente alla canzone antica napoletana. Qui di seguito troverete l'indirizzo e anche l'indirizzo e-mail, se volete anche contattarmi in privato. Un saluto a tutti. Ah, un'ultima cosa. Domenica 3 giugno, dalle 21.30 alle 22.30, il mio orario solito di trasmissione, su C-Radio, al sito www.c-radio.it, ci sarà una mia ultima puntata, per mandare il mio saluto a tutti voi. A presto, Dario. A presto, Dario. Ma non li vedo, perché non li vedo. Io mi preostro anche per le elementi. Perché? Chi è questo? È arrivato, è arrivato, è arrivato lui ragazzi. È arrivato lui. Un applauso, benvenuto. Amore. Benvenuto tra noi qui al cubo di Siretio di Liri, ragazzi. Perché ragazzi voi non ve lo aspettavate, ma noi regaliamo sempre delle novità. Un benvenuto anche al nostro amico Coppa. Guardalo, guardalo, guardalo. Perché ragazzi, tra poco in anteprima, direttamente alla piazza Marti di Senteruglio, ci sarà il delirio totale qui al cubo di Siretio. Tutti, 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 tutti davanti al cubo ragazzi, perché tra poco, perché noi abbiamo speso tanto per farlo arrivare direttamente da un posto. Da l'unico Coppa? Sì, 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 sì. E beh, ragazzi, noi abbiamo il potere di fare tanto con questo cubo, eh ragazzi. Adesso in fase di preparazione perché lo stiamo aspettando caldamente. Perché eventualmente Benvenuto, dagli un qualche sputino sopra la testa perché così si liscia meglio. Perché ragazzi, tra poco ci siamo, eh. Allora ragazzi, io ve lo presento. È arrivato qui al cubo di Siretio, solo ed esclusivamente per noi. Elvis Costello. Elvis Costello. Elvis Costello, cioè, mega pinzacchipi. Eh, eh. Com'è, com'è? Eh, eh. Sono il Costello. Sì? Eh, hai visto cosa mi è fatto arrivare? Ma voglio sapere una cosa, Elvis? Allora. Thank you very much. Allora, see. Ci delizia con qualche sua canzone? O di questo è il quartiere? Or no? And eh... The song or the white? The song or right. Ok, thank you very much. And eh, big big... Complimenti a Elvis! Eh, eh? Perché il Costello... High, high the ballon. Dream me like a fool Dream me like a fool Oh, 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 I'm a step blue As you lose, I love me, won't you love me? I have a home, and my heart is so, so lonely I have a home, and my heart is so lonely I have a home, and my heart is so, so lonely I have a home, and my heart is so, so lonely I have a home, and my heart is so, so lonely I have a home, and my heart is so lonely I have a home, and my heart is so lonely che spettacolo ragazzi, bella lì è un suo amico, ma di infanzia quella che avete passato al manicomio o quella che è no, proprio di infanzia infantile proprio, proprio infantile al 100% allora non mi è cambiato niente, no che vuoi cambiare, Bruce allora secondo te hai visto che ospiti che abbiamo qua, si vedi sono basita, sono senza parole, eh? è rimasta basita veramente, ma proprio basita ma basita proprio, sai perché? perché c'è dell'acido basico che gira è il profumo che lo scusate, è quella cacciotta dolce, è dolce, sai che il profumo è? dolce banano frate tuo comunque per te, no, io volendo, cioè io ti posso consigliare anche a te un profumo, come ti chiamo? bibi, benissimo, bibi, non bibi, 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 ci sta l'ultima profumazione di robetta cavalla chiedi cosa sei? oh frate tu hai fatto il profumo posso partnership no, andare fino a 500 metri di centro c'è solo il retro gusto, è finito frate tu non posso forza mi sembri storia ogni volta che lo sento basta l'acqua, ci sta poco sangra, ne ho vien y придi al resto qua signorino, che si che photo di cattolio, faiτανami è la quale che mi possa quella mi fa tremarle bene i polsi a te che conviene tenere la tua viaggio si può calpar del solito stupaggio secondo me io penso diciamo che tu mi sei guida tu mi seguire o che arriva Gennaro il nordo sunque domande che lo prende a tutto dentro a nulle di mande ma a svolger del peccato si tu si fatale l'errore in tal compie testare io prendo e lo mando proprio prendo e lo mando proprio a cagare dopo questa io mi slaureo mi slaureo sono Mario Monti ecco voi ho creato la tassa sui sogni ma va fangula ho creato la tassa sui sogni mi sape da 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 lo mando ma va fangula mi sape d'ora I saved a blue for me and you and a free to myself What a wonderful moon Why the skies of a blue Panclos of white The bright by the day The dark, sacred night And I feel to myself What a wonderful moon The talents of the rainbow So pretty in the sky And also on the faces Of the people talking by I see friends shaking hands Saying, how do you do? They will say I love you Our babies will cry I watched them grow They were much more than I'll ever know And I feel to myself What a wonderful moon Yes, I feel to myself What a wonderful moon What a wonderful moon Good morning Vietnam NOOOOM